Allora, Brigantoni che ha mandato questo grande artista, ma lui non è di Palermo che è di Palermo, signora Poli, Salvo Pirone, a vostra! Questa sera voglio ringraziare il pubblicato, che abbiamo fatto un cantare qui, questa sera è Brigantoni che è il tuo padrino di questo nastro che ho uscito, un'altra grande persona voglio ringraziare, Gero Silvestri, che ne ha voluto qui. Facciamo un grande applauso a Massimo Combo, è tutta l'opera, sono applauso, va bene, tutti quanti! Vai con la base, non c'è stato male, vai! Viste a dire poi unalicha cosa, è religione, è dishote description, mani, sono e giusto, vuoi essere stato a dire! Sì, sai, 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 sai! Vai Training non c'è, sai, vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.